Io ho proprio un passatempo bellissimo, un bel gioco, riesco ad andare in giro con gli amici a zappare su questi campi bellissimi, quindi questo è proprio il mio indole del gioco. Bene, un po' bagnato, ma con tutta l'acqua che è venuta a Roma in questi giorni direi che è molto bello, un campo sul quale io faccio sempre fatica a trovare il ritmo, ma è colpa mia, non è colpa del campo, perché la regola del golf è che il campo è bello se tu giochi bene, se giochi male, e non è colpa del campo, però dai la colpa al campo, ma il campo è stupendo, poi la giornata è meravigliosa, è un altro Roma classic da ricordare. Mi piace questa gara, la faccio ogni anno, però ultimamente mi vedete un po' di meno, perché sto molto tempo in Polonia, c'è un incarico che dura 4 anni, allora quando ci sono giorni liberi torno a casa, perché casa mia è a Roma, avendo un po' di tempo libero intanto si gioca anche in golf. Poi oggi è una giornata splendida, gioco con questi tre campioni qua, che mi possono insegnare qualcosa, alla fine vediamo come finirà. Quest'anno spero di rivincere, mi sono allenato, mi sono preparato, quindi è sicuro che farò una pessima gara, perché quando uno si prepara c'è troppe aspettative, però ci provo. Ci provo. La cosa che voglio dire è questa, che comunque mi auguro in futuro questo sport, il golf, possa incuriosire tutti, ecco, e quindi bisogna far sì che la gente si avvicini, e da parte mi auguro della federazione ci sia un atteggiamento proprio non circoscritto, ecco, e spiegare che il golf lo possono fare tutti, questo è fondamentale. Io, idolo del golf, mi pare un po' eccessivo, però dai, mi diverto, passo bei sabbari, bei domeniche, anche in famiglia, con gli amici, tento di rilassarmi, quando va bene, quando va male, che il più delle volte invece mi strezzo di più e torno ancora più nervoso di come sono venuto. Una giornata speciale per chi ama lo sport e che per chi ama il verde. Abbiamo deciso di intraprendere un nuovo percorso con il golf Marco Simone, un percorso dedicato alla famiglia, che possa riunirsi intorno alla natura, intorno all'idea di spendere il weekend nel relax, per rigenerarsi a contatto con il verde e fare qualcosa tutti insieme, insieme nello stesso luogo, non necessariamente la stessa. Siamo sensibilissimi a queste iniziative, io le giudico iniziative portanti e che possono veramente modificare la situazione del golf, solo così bisogna andare avanti. Io sono molto contento, ho visto delle cose importanti, ma so anche di grandi progressi di questo circolo eccezionale.